Un'invasione pacifica di oltre mille bambini in piazza San Marco. Sono stati loro i protagonisti il 9 maggio scorso di una spettacolare coreografia corale ideata dalla celebre artista filmmaker Marinella Senatore. Scendi in piazza con With the Kids è stata la fase conclusiva della sesta edizione di Kids Creative Lab, il progetto che dal 2012 ha visto impegnate la collezione Peggy Guggenheim e OVS nel coinvolgimento di oltre 5 milioni di bambini delle scuole primarie in tutta Italia. Gli oltre mille bimbi che hanno partecipato alla performance sono solo una piccolissima parte di quelle 1.800.000 che ha aderito quest'anno a With the Kids, il più grande progetto di social practice creato dalla senatore che ha visto l'adesione record di 66.000 classi e 8.000 scuole in tutto il paese. Rosse, gialle, verdi, migliaia di magliette colorate indossate da un esercito di performer in erba che hanno danzato accompagnati dalle musiche inedite create per il progetto dal compositore e pianista Emiliano Branda. E seguendo le coreografie del collettivo Espizeta, Elisa Zucchetti e Nadan Molinaro, un dialogo, un racconto tradotto in movimento fondato sulle relazioni tra i partecipanti, volto a promuovere valore quale il rispetto e la consapevolezza per costruire una società inclusiva, partecipe, attiva, pacifica e cosmopolita. Con queste parole Marinella Senatore ha sintetizzato l'idea alla base. Per questo motivo il progetto ha abbracciato anche i valori della campagna di sensibilizzazione promossa dal comune di Venezia, Enjoy Respect Venezia, preceduto dall'hashtag. Ad introdurre la performance Camila Raznovic che non ha trattenuto l'entusiasmo nel presentare uno spettacolo unico nel suo genere che è riuscito a raccogliere migliaia di bambini in uno dei luoghi più suggestivi al mondo. A fare poi gli onori di casa e a salutare i piccoli sono brevemente intervenuti Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, Elisabetta Vanuzzo, responsabile brand marketing e comunicazione di OVS, Carol Veil, direttrice della collezione Peggy Guggenheim e Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco. C'erano anche l'assessore al turismo del comune e Piero Rosa Salva, presidente di Vela Spa, tra i sostenitori di questo progetto. Oltre ad essere stato inserito in Le Città in Festa, scende in piazza con With the Kids, rientra nella programmazione del grande evento Il Patrimonio Culturale Europeo per i Cittadini che si svolge fino al 31 maggio nel cuore della città lagunare per celebrare la sesta edizione della Festa dell'Europa. Ferenza 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 Giornostale Ferenza